Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Per subire i vostri corpi decidiamo noi L'attuale governo decide di convocare questo convegno No, 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 no Fermi, fermi Dopo aver scelto costantemente il silenzio come unica risposta Un'intero anno di ossa Un'intero anno di richieste portate ai nostri istituti Un'attuale governo di ministero stesso con l'obiettivo di ottenere un nuovo genere di scuola Un nuovo genere di educazione State dicendo una falsità Questo è un evento organizzato da una fondazione In una società che vede le cose Dovrebbero difrenderci i nostri diritti e invece ci dicono di fare figli Di fare figli in questo mondo C'è uno scelto in corso e noi vogliamo fare figli quando i bambini muoiono Dei bambini morti non ne frega niente Noi più anche occidentali dobbiamo fare sempre, solo figli Allora, grazie, grazie Io penso che sia chiaro la nostra posizione sul Sul mio corpo deciso io A quale è stato, a quale è io Giornalisti per favore Giornalisti per favore